Avevamo già fatto una piccola introduzione tecnica, magari la riprendiamo un attimo per capire che cosa svilupperemo durante il percorso. La struttura di un corso base oggi si articola su 370 ore complessive. Locale, comportamento organizzativo e relazione con l'utenza, alcuni aspetti di psicologia sociale, l'organizzazione tecnica dei servizi di polizia locale, le radiocomunicazioni, l'organizzazione del servizio della polizia locale, l'inquadramento del nostro profilo all'interno degli enti locali, quindi l'ordinamento. Se qualcuno di voi ha problemi di ricezione, gli chiedo cortesemente di attaccare il microfono e farlo presente. La parola di polizia locale e quindi indirrogabilmente questa fase va affrontata direttamente presso la sede della scuola del corpo e conseguire in via ordinaria con le lezioni frontali. Quindi dicevamo, sono 370 ore in tutto il corso, di cui 151 del primo modulo, 23 alla scuola del corpo, al piano dell'emergenza sanitaria. Come parlare di cominciare Mugnai, poi alle 10 e mezza, alle 10 e mezza facciamo una pausa di mezz'ora e alle 11 cominciamo con la lezione sul codice della strada. Ricordatevi che state lavorando, durante la lezione si state in team. Praticamente voi iniziate e la prima cosa che fate, scrivete presente nella sezione file, che ho messo un file sulla lezione. Auro un buon lavoro a tutti quanti e tenete presente che al termine di ciascuna lezione, come abbiamo fatto con Sara e Larissa, ci mettiamo a disposizione per le domande.